Nessun giallo per la morte della psicologa, per la magistratura si è trattato di un suicidio. Analisi dello stress del silicio, importante risultato raggiunto dall'Elfandry. CAM, addio al premio del risultato, la decisione è stata dei vertici dell'azienda. Incentivazione della pesca sportiva, Lorenzo Berardinetti interviene sulle recenti disposizioni regionali. Guardiale saluto dagli studi di Antena 2, dunque nessun giallo intorno alla morte della psicologa di Avezzano, Carla Di Carlo, di 42 anni. Infatti il magistrato titolare dell'inchiesta, il sostituto procuratore della Repubblica, Maurizio Maria Cerrato, a seguito delle risultanze degli investigatori ha disposto la riconsegna della salma ai familiari. Da rilievi nell'appartamento di Via degli Aviari e dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Avezzano, è emerso che la morte è venuta a causa dell'ingegnamento volontario di farmaci che si trovavano in casa o che erano vicino al corpo. Per questo motivo il dottore Cerrato ha dato l'occheo alle riconsegne della salma ai familiari, tanto che non ha ritenuto opportuno neanche disporre l'autopsia. Secondo gli accertamenti la morte risalerebbe ad alcuni giorni prima almeno due o tre. Il corpo della donna si trovava in cucina e una cagnolina cocker penny l'ha vediata per tutto il tempo. Dopo poco più di due anni di attività, il laboratorio del polo ICT Abruzzo, detto Open Lab, situato all'interno dello stabilimento Elfandre di Avezzano, in un'area accessibile alle società associate e in generale adianti di ricerca convenzionati, ha raggiunto un importante risultato relativo all'utilizzo della spettroscopia Raman Tip & Omset per l'analisi dello stress del silicio nell'industria dei semiconduttori. I risultati di tali attività, avviata grazie alla sinergia tra Elfandre e del centro di ricerca per le nanotecnologie applicate all'ingegneria dell'Università della Sapienza di Roma, sono stati inoltre pubblicati dalla prestigiosa rivista Applied Physics Letters. Si tratta di una tecnica di analisi a livello nanometrico, dove uno spettroscopio Raman è copiato ad un microscopio forza atomica. La tecnica fino ad ora era stata utilizzata solamente su superfici bidimensionali ed in contesti completamente diversi da quelli dell'industria dei semiconduttori, dichiara Onofrio Antonino Caccioppo, manager di Elfandry e coordinatore dell'attività. Nell'open lab, continua Caccioppo, è stata messa a punto per l'analisi di nanostrutture 3D di prodotti Elfandry. La tecnica consente di mappare il livello di deformazione degli atomi del silicio in aree di poche decine di nanometri di diametro. In questo modo si rende possibile analizzare velocemente, già in fase di lavorazione, le caratteristiche che impatteranno l'affidabilità dei prodotti. Finora, al contrario, l'industria disponeva di tali possibilità, solo ricorrendo a costose e poco funzionali analisi distruttive. Un importante traguardo in sintesi raggiunto mediante l'attività del polo ICT Abruzzo, al cui interno sono installati strumenti all'avanguardia per la microscopia atomica e grazie ai fondi PORFEST Abruzzo 2007-2013, a sostegno alla creazione di poli di innovazione. Addio premio risultato uguale per tutti al CAM. La società di gestione del ciclo idrico integrato della Marsica imbocca decisamente la strada della meritocrazia. Il quantum del salario accessorio, quindi, non sarà più una tantum per tutti i lavoratori, ma sarà il frutto di un'attenta valutazione di una serie di parametri, con in testa il grado di soddisfazione degli utenti, le performance attese a migliorare il servizio, l'incremento di produttività, redditività, innovazione ed efficacia, la riduzione dei costi, la cura dei materiali, di beni e mezzi aziendali, dell'immagine e della società. Puntiamo a diventare una società modello, afferma l'amministratore delegato del CAM, Giuseppe Venturini, che segreta l'intesa con i sindacati sulla nuova formula che determina il premio di risultato meritocratico in linea con le direttive della riforma sulle partecipate, illustrata dal ministro Mariana Madia, nella recente visita in sede. L'obiettivo finale della governance del CAM, Paola Tili, presidente, Giuseppe Venturini, l'AD, Armando Floris, consigliere, in sintonia con i sindacati, è quello di condividere un processo evolutivo di sviluppo della società che migliori anche le condizioni di lavoro e la crescita professionale di dipendenti. Si volta decisamente pagina, quindi, al Consorzio Acquedotistico Marsicano in linea con le direttive del Consiglio di Sorveglianza finalizzate a trasformare la società di gestione del ciclo idrico integrato in un'azienda virtuosa, in grado di assolvere al medio il delicato incarico di gestore in house providing. L'intesa sul premio del risultato meritocratico, seglata tra l'amministratore delegato e le forze sociali, è valida da maggio di quest'anno a dicembre 2020. Sul rispetto delle regole vigilerà un team composto da tre persone, due indigati dall'azienda, uno dai sindacati. Dopo un incontro formativo dedicato alla pet therapy, terapia dolce, basata sull'interazione uomo-animale, nella sede dell'associazione Peter Pan di Celano si è tenuto il secondo appuntamento organizzato dalla consigliere comunale Maria Antonietta Zaurini, delegata alle politiche sociali. All'incontro hanno partecipato domenica di Salvatore, presidente ANFAS, operatori dell'associazione di promozione sociale, giantropologica e in Ghana Vezzano, volontari della protezione civile e volontari che quotidianamente dedicano la loro attività al centro Peter Pan Anfas. Sono soddisfatta per l'organizzazione, dice Maria Antonietta Zaurini, e la buona riuscita della giornata dedicata ad una disciplina che si pone come obiettivo di migliorare le tradizionali terapie che può essere impiegata su pazienti affetti da differenti patologie, con obiettivi di miglioramento comportamentale, fisico, cognitivo, psicosociale e psicologico emotivo. In pratica si è trattato di una vera e propria lezione dimostrativa e divulgativa di come alcuni animali, quali cani, gatti, cavalli ed altri, siano importanti nella terapia. Infatti nella sede della Peter Pan si sono visti all'opera due cagnolini, Peggy e Tommaso, perfettamente addestrati, che hanno collaborato e stimolato i ragazzi del centro. Seguiranno altri incontri, anche con il coinvolgimento di gatti, capri ed altri animali. Incentivazione della pesca sportiva e professionale sull'intero territorio abruzzese e misure straordinarie per combattere il fenomeno della pesca di frodo. Sono alcuni dei prossimi obiettivi da perseguire per una corretta gestione dei corsi d'acqua, è quanto dichiara il Presidente della Commissione Pesca del Consiglio regionale, Lorenzo Beradinetti. Si sono conclusi positivamente nei giorni scorsi le operazioni di semina ittica. sono stati oltre 40 i quintali di trote rimesse nelle acque appartenenti alle specie autoctone di assoluta qualità, come l'Affario e Mediterranea, provenienti dal Centro Itiogenico Sperimentale di Idrobiologia dell'Aquila, ha spiegato Beradinetti. Così, dopo l'approvazione della nuova legge, pubblicata oggi sul Bura, che gestisce la fauna ittica e disciplina la pesca nelle acque interne, è stato fatto un altro passo importante a garantire un equilibrio dinamico ed una corretta gestione tanto della fauna ittica quanto dei corsi d'acqua. L'intervento del ripopolamento ha interessato tutto il territorio regionale, nello specifico della provincia dell'Aquila, i tratti di fiume oggetto di semilettica sono stati i seguenti corsi d'acqua. Per il versante Aquilano, San Demetrio, Stiffe, Fossa, Paganica, Terra Nera, Coppito, Pizzo e Liberite. L'intervento ha coinvolto il fiume Vettoglio e Vera. Per l'area marsicana, Carciolano, aree con grande tradizione per la pesca sportiva, Celano, Ortucchio, Pescena, Trasacco, Tagliacozzo e Carsoli. Una cospicua emissione è stata effettuata nei canali del Fucino e nei fiumi Giovenco, Turano e Imele, ancora nell'area Rovetana, quindi Capistrello, Civitella Roveto, Canistro, San Vincenzo. L'intervento è stato rivolto in particolar modo al fiume Liri. Infine, per il versante della valle Peligna, Sulmona e Pratola, l'intervento di ripopolamento ha interessato i fiumi Gizio e Sagittario. Presidente della regione Luciano D'Alfonso, oggi pomeriggio si è recato in visita al personale militare del nono reggimento alpini L'Aquila, con sede nella caserma Pasquali, dove è stato ricevuto dal generale di brigate Rino De Vito, del comando militare esercito Abruzzo, dal colonnello Marco Diovinelli, comandante del nono reggimento alpini, e dal talente colonnello Pietro Piccirilli, aiutante maggiore del reggimento, da Pietro D'Alfonso, presidente della sezione Abruzzi dell'ANA. Il reggimento ha preso parte delle recenti operazioni dell'esercito, in Mozambico nel 1993, in Bosnia nel 98, in Albania nel 99, in Kosovo nel 2000, nel 2001 e nel 2007, in Afghanistan nel 2003 a Kost, nel 2005, 2006, 2008 a Kabul e nel 2010 a Farah. Ha anche partecipato all'operazione Enduring Freedom, con la denominazione contingente Nibbio, per la quale il reggimento è stato decorato con la croce di cavaliere dell'ordine militare. A seguito del terremoto che ha colpito l'Abruzzo, il 6 aprile 2009, il reggimento ha subito preso parte ai soccorsi e successivamente è stato impiegato in attività di concorso alle forze di polizia per prevenire i fenomeni di sciacallaggio. Attualmente il reggimento è inquadrato nella bregata alpina taurinense, che dipende dal comando truppe alpine. Dopo gli onori militari, il presidente ha ricevuto il saluto da tutto il personale del reggimento, composto da militari graduati, sotto ufficiali o ufficiali schierati nel piazzale principale. Gli altri ufficiali presenti hanno elencato tutte missioni di pace che hanno visto impegnato il personale militare negli scenari internazionali, soffermandosi sul ruolo degli alpini nell'operazione di soccorso rivolte alle popolazioni colpite dal terremoto e dagli altri eventi atmosferici calamitosi che hanno interessato il nostro paese negli ultimi decenni. D'Alfonso, a proposito della tragedia di Rigopiano e delle ulteriori scosse telluriche del 2016-2017, ha voluto conoscere nel dettaglio quali sono stati i compiti assegnati a Dialpini, definendoli uomini e donne che del sacrificio e del dovere fanno la loro ragione di vita. Pochi euro messi in gioco il jackpot del superenalotto appena sfiorato. E' mancato solo un numero a un giocatore di Carsoli in provincia dell'Aquila per centrare l'assessina vincente, ma grazie a una schedina convalidata nella ricevitoria Il Babà in via di Portina Valeria porta a casa un 5 da oltre 41 mila euro. Il premio di prima categoria adesso mette in palio 42,8 milioni di euro. In Abruzzo il 6 manca dal 2012, quando il 30 agosto, a Davezano, vennero centrati 12,3 milioni di euro. L'inizio anno la singola vincita regionale più alta è un 5 da 67 mila euro centrato a Pescara lo scorso primo aprile. Contributi alle imprese che investono nelle aree di crisi semplici e individuate dalla regione. È una delle novità contenute nel nuovo bando PORFEST 2014-2020 in procinto di essere pubblicato dalla regione Abruzzo. Vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo sviluppo economico Giovanni Lolli terrà domani, 11 maggio, alle ore 11.30, presso la Sala Blu di Viale Bovio a Pescara una conferenza stampa per illustrare i contenuti del bando, la dotazione finanziaria dello stesso e le modalità di adesione da parte delle aziende interessate. La conferenza stampa prenderà parte anche il Capo Dipartimento Lavoro e Sviluppo Economico Tommaso Di Rino. L'Inps ha assicurato l'inserimento del nuovo bando per l'affidamento della commessa per i call center che operano per l'ente della clausola sociale che garantisce gli attuali livelli occupazionali. Tuttavia, tale clausola ne specifica ne prevede alcun criterio che garantisca la territorialità. È quanto dichiara il segretario regionale Fistel-Cesla Antonio De Simone. Nella definizione del nuovo bando che sarà redatto a breve suggerisce che l'Inps dovrebbe ispirarsi a quello formulato dalla RAI che prevede la continuità del rapporto di lavoro con l'azienda di tutti gli addetti. Venerdì 12 maggio alle ore 18.30 presso la sala consigliare del Comune di Avezzano avrà luogo la cerimonia di consegna del premio Cesare Pais. 26esima edizione del premio Rotary istituito dal Club di Avezzano nel 1992 per onorare la memoria di tutti i soci scomparsi e con l'intento di rendere più incisiva la presenza del Rotary nella realtà territoriale della Marsica. La commissione di premio presieduta dal professor Giuseppe Cristofaro per l'anno 2017 ha segnato il prestigioso riconoscimento all'attore Leno Guanciale al quale il presidente del Club di Avezzano dottor Massimo Nicolai consegnerà un originale oggetto ideato realizzato dagli alunni dell'Ecortistico Bellissario di Avezzano. Domani giovedì 11 maggio alle ore 18.30 nella sede elettorale di Via Cataldi numero 152 si terrà la presentazione di due liste a sostegno della candidatura al secondo mandato del sindaco Giovanni Di Pangrazio la regione non solo non è stata in grado di intervenire con soluzioni adeguate ma addirittura sembrerebbe annunciare la fine imminente della importante istituzione di ricerca fermano in una notte il consigliere regionale di Abruzzo Civico Mario Olivieri firmatario di molte risoluzioni approvate dall'Aula a favore del Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche rigue Cotir di Vasto a Chieti il disagio economico e psicologico dei lavoratori che pur avendo portato a termine i progetti di ricerca si sono sovente trovati nell'impossibilità di percepire quanto loro spettante non solo non è stato compreso nella sua gravità insostenibile per i numerosi nuclei familiari interessati che ad oggi vivono una condizione di indigenza tale da non essere in grado di sostenersi ma addirittura è stato aggravato dal recente annuncio di una morte prematura Olivieri chiede con urgenza la tempestiva azione del presidente Luciano D'Alfonso per ricevere risorse straordinarie per ripristinare la piena operatività del Cotir che insieme ad altri centri di ricerca regionale esplata un ruolo fondamentale per il risultato scientifico ed economico abruzzese e per garantire il rilancio del Consorzio non è infatti ipotizzabile conclude Olivieri che il solo fatto di trovarsi nel Vastese possa costituire il discrimine per un trattamento diverso da quello riservato agli addetti di baracconi ben più costosi riscontrati e presenti in altre aree del territorio regionale che sono stati salvagordati dall'azione dell'esecutivo un'intesa tra regione e università per avere maggiore certezza nelle scelte nella pianificazione e negli investimenti è stato firmato all'Aquila il protocollo per la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario e università con riferimento all'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'università nell'ambito dell'attuale assetto organizzativo sanitario della regione Bruzzo l'intesa è stata sottoscritta tra regione Bruzzo università degli studi dell'Aquila università degli studi d'annunzio chieti pescara firma del presidente Luciano D'Alfonso dal prorettore Carlo Masciocchi per l'università degli studi dell'Aquila e del rettore Michele Bacca per l'università degli studi d'annunzio chieti pescara presenti anche i direttori generali delle quattro asla abruzzesi e la rettrice dell'università di L'Aquila Paola Inverardi e l'assessore alla salute Silvio Paolucci un atto di programmazione che attendiamo da circa 20 anni ha commentato l'assessore Paolucci la programmazione formativa universitaria delle due facoltà di medicina per gli specializzanti è sotto l'ombrello di una programmazione regionale più ampia questo vuol dire molto vuol dire investire sulle scuole di formazione sulla rete assistenziale sugli specializzanti e mettere in grado tutta la rete assistenziale tutti i presidi di avere a disposizione un alto livello di formazione la regione dovrà tener conto nell'elaborazione e la stesura di documenti di programmazione regionale dei programmi di sviluppo della facoltà scuola di medicina e dei suoi corsi di studio sabato 13 maggio dall'ora 15 presso piazza del municipio Madiano De Marsi e contorno della manifestazione e gran fondo MTB la via De Marsi sport e avventura Memorial Tiziano Masci si svolgerà una gincana promozionale riservata alle categorie giovanili denominata bim bim bici Madiano De Marsi dalle ore 15 i piccoli atleti si ritroveranno in piazza del municipio la gara avrà inizio alle ore 16 il percorso ricavento all'interno della piazza sarà realizzato con berelli e segnali stradali la gincana promozionale vuole essere un'ulteriore giornata dedicata allo sport che percette da gran fondo MTB la via De Marsi sport e avventura Memorial Tiziano Masci di domenica 14 maggio e che percorrerà anche l'abitato di Madiano rimetto organizzato dall'ASD Avezzano MTB con il patrocinio del comune di Madiano De Marsi garanzia sul mantenimento dei livelli occupazionali sul futuro dei 100 lavoratori della Olicar la società che si occupa di servizi di manutenzione delle strutture sanitarie ospedaliere dell'ASD Avezzano Sulmona L'Aquila ad avanzare la richiesta sono Fimcis Filcam CGL e Will Tux che a febbraio scorso avevano inviato una nota al direttore dell'ASD Rinaldo Tordera e all'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci richiesta rimasta in evasa l'incontro spiega Gianpaolo Biondi referente Fimcis della provincia dell'Aquila sarebbe dovuto servire a creare i presupposti per un'intesa sui diapalti con l'obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici garantire l'occupazione tutelando i lavoratori e favorendo al contempo la trasparenza nelle procedure delle gare di appalto a gennaio 2018 scadrà il contratto stipulato nel 2013 dall'ASL con la Olicar vincitrice della gara d'appalto per il bando di manutenzione occorre aprire un tavolo di confronto urgente ferma Biondi per verificare le possibilità e l'impegno della regione dei vertici dell'azienda ospedaliera tutela dei livelli occupazionali in sostanza qualunque sia la strada intrapresa per la gestione futura dei servizi di manutenzione dei presidi ospedalieri i sindacati chiedono che vengano garantiti gli attuali livelli occupazionali un tema fondamentale come la manutenzione di tutti gli impianti delle strutture della ASDRA non può passare in secondo piano la giunta regionale riunitasi all'Aquila sotto alla presidenza di Luciano D'Alfonso approvato un provvedimento relativo agli interventi previsti nel master plan per l'Abruzzo con il quale viene proposta una rimodulazione degli interventi programmati e delle relative cifre messe a disposizione in particolare è stato definito di destinare risorse finanziarie per le seguenti ulteriori aree tematiche 3 milioni di euro per il completamento della copertura finanziaria per infrastrutture dedicate alla trasportistica innovativa 2,5 milioni di euro per la delocalizzazione di infrastrutture energetiche veicolo di detrazione ambientale funzionale recupero della vivibilità ambientale nella realtà urbana 400 mila euro per il recupero di infrastrutture culturali al servizio della collocazione turistica di particolare pregio ambientale 1,6 milioni di euro per il completamento di infrastrutture di arie in sistemi produttivi attivi da più di 20 anni 2,5 milioni di euro per il completamento di investimenti che aumentino la capacità di collocazione turistica ambientale e culturale dei territori di pregio della regione Abruzzo e si è chiuso il ciclo di incontri promosso da col di retichieti per presentare le opportunità legate al bando sulla produzione integrata del nuovo programma di sviluppo rurale pubblicato recentemente dalla regione Abruzzo a distanza di nove anni dall'ultimo avviso 4 appuntamenti che si sono susseguiti sul territorio delle diverse sedi dell'organizzazione quindi a Francavilla Casio Libasto e Lanciano per divulgare la presenza di dirigenti imprenditori e dei giovani in attesa di insediamento le opportunità offerte dalla nuova programmazione ma anche confrontarsi su problemi e prospettive dell'economia chiettina una realtà importante con oltre 30.000 aziende agricole complessive operanti e una superficie agricola utilizzata di oltre 110.000 ettari coltivati principalmente a vite olivo cereali oltre naturalmente ai terreni occupati da orticole e prati pascolo un ciclo di incontri che è riuscito nel suo obiettivo dice il direttore di col diretti chieti Luca Canala a dialogare con la base associativa coinvolgendo centinaia di soci per conoscere le aspettative e le proposte della base in linea con il cambiamento in atto nel settore agricolo e questa era l'ultima notizia quindi il giornale termina qui come sempre vi ricordiamo questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antennaduotv.it o sulla nostra pagina facebook Antena Dovezzano dove è possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena Dovezzano ha realizzato nel corso degli ultimi anni quindi grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a l'ultima notizia Grazie a tutti.